Un saluto a tutti Dalla redazione di Rossini TV E benvenuti a questo nuovo appuntamento Con il Vallefoglia Magazine Il settimanale di approfondimento Della città di Vallefoglia Prima di iniziare vi ricordo i nostri contatti Alle quali potete inviare le vostre segnalazioni Qua in sovraimpressione Trovate il numero di Whatsapp Oppure la mail di redazione Vallefoglia www.chioccelorossinitv.it Vi ricordo che potete inviarci foto Potete inviarci video Messaggi audio per quanto riguarda Whatsapp Oppure semplici messaggi di testa Ma iniziamo con la prima notizia Perché sono ormai diversi mesi Che si parla di una possibile realizzazione Di un impianto di biodigestore a Talacchio In merito a questo tema La giunta comunale di Vallefoglia Ha richiesto ufficialmente di sottoporre Il progetto ad una valutazione Di impatto ambientale Sì noi intanto se lo fanno altrove Siamo contenti insomma Nel senso che se dovesse essere realizzato qua Noi abbiamo chiesto che prima di tutto La tutela della salute La compatibilità La sostenibilità ambientale Abbiamo chiesto per primi La valutazione dell'impatto ambientale Nel via E ci sarà tempo Perché saranno almeno un paio di mesi Per una discussione approfondita Dove tutte le istituzioni Possono dire da loro E ovviamente Non si faranno cose Nella maniera più assoluta Vallefoglia Che non tutelano la salute L'ambiente Il paesaggio E la sostenibilità Dello sviluppo di questo territorio Chiunque sia Fanno cose Nelle norme di legge Che tutelano la salute L'ambiente Anche un messaggio Per i cittadini Quelli un po' più preoccupati Le preoccupazioni Sono giuste Nel senso che Qualsiasi attività Da noi Sono molte le aziende Che potenziano Le loro attività E' chiaro Che aumentano I posti di lavoro Ma aumentano Anche le macchine Aumentano i camion Aumentano L'inquinamento atmosferico Non è un caso Che noi Facciamo Abbiamo già approvato Una convenzione Con l'Università di Urbino Per Per la tutela E il controllo Della qualità Dell'aria Della qualità Dell'acqua E della qualità Anche dei cibi Che vanno Sulle nostre tavoli Perché anche quelli Significa mangiare bene Tutelare la salute E evitare inquinamenti E sempre in merito Alla realizzazione Delle biodigestore A talacchio L'amministratore Unico di Green Factory La ditta Incaricata Delle progetto Mauro Tiviroli Ha sottolineato Come si stia mirando A realizzare Un impianto funzionale Ma anche bello Tutto ciò Affinché possa diventare Meta dei visitatori Non solo Per il suo funzionamento Impiantistico Ma anche Per le sue qualità Architettoniche È confermata La scelta Di un impianto Completamente al chiuso Sia nelle lavorazioni Sia nello stoccaggio Dei materiali trattati È previsto Infine il recupero Della casa colonica Esistente Valorizzando anche Spazi dedicati Alle visite guidate Organizzate In collaborazione Con le scuole Per iniziative Di educazione ambientale E sempre Sullo stesso tema Continua invece Forte e chiara La contrarietà Da parte Della associazione Diversamente Alla realizzazione Di un impianto Di biodigestore Da 105.000 tonnellate A Vallefoglia Nella serata Di venerdì 12 febbraio Si terrà Assieme a Pesaro A Città Sostenibile Un incontro online Sulla piattaforma Zoom Dalle titolo Di gestore No grazie Oltre alle Presidente Dell'associazione Andrea Torcoletti In questa occasione Interverranno anche Il giurista ambientale Massimo Grondacci Il presidente Delle comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina Massimo Gianangeli Ed ingegnere Civile ambientale Francesco Girardi E dopo il brutto episodio Di qualche giorno fa Dove si è visto andare distrutto Il presepe Della chiesa di Montecchio Il comune di Vallefoglia Intende compere Ulteriori sviluppi Sia nel campo sociale Che in quello Della sicurezza Dove in quest'ultima È previsto Un potenziamento Dei controlli Indubbiamente Questo gesto Rappresenta Un simbolo Di quello Che stanno vivendo In questo momento I giovani Come disagio È chiaro Che azioni Di microvandalismo Sono sempre Stati presenti Per determinate Fasce di età E rappresentano Appunto Un segnale Anche di un atteggiamento Un po' di rivolta E di sfida Dei giovani In questo periodo Con la crisi Del covid E quindi Con la mancanza Di tutte quelle Che sono Le attività Associative Dei giovani Quindi la mancanza Anche da parte loro Di avere una possibilità In qualche modo Di non isolarsi Ma di maniera A contatto Con gli altri Partecipare A delle attività Anche concrete Chiaramente Tutto questo Acuito Questo disagio Che può essere presente Quindi noi Lo consideriamo Come un atto Anche come un segnale Per quello Che può essere Appunto La situazione Che stanno vivendo I giovani oggi E ci siamo attivati Così come abbiamo fatto Sempre in passato Ma in modo particolare Anche legato A queste nuove forme Appunto Di isolamento Che possono vivere I giovani Ci siamo attivati Per poter potenziare Tutte quelle che sono Le attività Di aggregazione Chiaramente Con i limiti Imposti Dalla Dalla Ho avuto anche Anche modo Di dire Altre volte Abbiamo comunque Un territorio Molto ricco Di associazioni sportive Di attività sportive Attività culturali Anche gestite In funzione Dei giovani Appunto per i giovani Abbiamo bisogno Che portano Benessere Risposta Un bel progetto Bambini Sappiamo Il distanziamento Sociale E mi permetto Di ringraziare Sia i docenti Che il personale ATA Per lo sforzo Che stanno facendo Nell'organizzare Al meglio Questo servizio Non abbiamo voluto Affatto Diminuire Questa offerta Perché Va incontro Sia all'esigenza Delle famiglie E sia Quelle della scuola Stessa Il pesce azzurro Nonostante sia Riperibile A un basso prezzo E sia quindi Definito Un pesce povero In realtà Non è povero Di proprietà nutrizionali È molto ricco Di grassi buoni Gli omega 3 E fondamentali Per lo sviluppo Oculare Dei bambini Per i vasi sanguigni Il cuore E il cervello Per prevenire malattie Come l'alzheimer L'aterosclerosi O l'infarto Il pesce azzurro È una fonte Eccellente Di proteine nobili Ad elevato valore biologico È costituito Da amminoacidi essenziali Essenziali Significa che Il nostro organismo Non riesce A sintetizzarli Autonomamente Ma li deve Introdurre Con l'alimentazione Quindi anche Con il pesce azzurro Il pesce azzurro È molto ricco Di ferro Calcio Fosforo Per le ossa E iodio Lo iodio È un minerale Prevalentemente Carente Per tutti Ma è fondamentale Per lo sviluppo Della tiroide Il pesce azzurro È molto ricco Di vitamina D Importante Per l'apparato Scheletrico E vitamine Del gruppo B E quante volte È consigliato Nutrirsi Di pesce azzurro Nell'arco Della settimana È consigliato Consumare il pesce azzurro Due volte a settimana Con porzioni Da 100-150 grammi Soprattutto Per l'apporto Di grassi buoni Questi omega 3 È infatti Preferibile Il consumo Di pesce azzurro Piuttosto che Integratori Che sono Più costosi E meno efficaci È bene Consumare Pesce azzurro Di piccola dimensione Come Acciuga Sardina Piuttosto che Di grossa taglia Come il tonno O il pesce O il pesce spada Poiché I pesci di grossa taglia Potrebbero Avere un accumulo Di mercurio Nei tessuti E per quanto riguarda Invece Le scuole Dell'infanzia L'amministrazione Comunale Di Vallefoglia È intervenuta Fornendo materiali Per lo sviluppo Di educazione Ed istruzione La spesa Totalmente finanziata Dai fondi ministeriali È stata suddivisa Nei 5 plessi Scolastici Del comune Vediamo il servizio Sì Diciamo che abbiamo Usufruito Di questi fondi ministeriali Dedicati alla fascia 0-6 anni E quindi abbiamo Rifornito Le scuole Dell'infanzia Del nostro territorio Quindi Montecchio Sant'Angelo Montefabbri Bottega Di diversi materiali Questo Riguardava Una progettualità Relativa Ai fondi Per il 2019 E abbiamo voluto Puntare Prevalentemente Sul discorso Lettura Quindi abbiamo Rifornito I plessi Di librerie Libri E poi Strumentazione Scolastica Varia Seconda delle esigenze Di singoli plessi Quindi da tablet A materiali Di arredo Giochi Tappeti Tappeti morbidi Anche per I più piccolini Mentre per L'annualità 2020 Se posso anticipare Abbiamo puntato Invece Su un'altra Esigenza Che è venuta Ovviamente A seguito Della pandemia Ovvero L'esigenza Di poter Usufruire Maggiormente Degli spazi esterni E quindi Di lavorare Sul piccolo gruppo E fare attività Educativa All'aperto Ovviamente Quando è possibile E quindi Abbiamo destinato Questi fondi ministeriali Alla realizzazione Di gazebi Pergole Per consentire Appunto Il lavoro All'esterno Una domanda Invece Sulla situazione In generale Come stanno andando Un po' Le scuole Qua a Vallefoglia Sì Devo dire Facendo tutti Gli scongiuri Del caso Che l'attività Scolastica Educativa Procede Diciamo Abbastanza Regolarmente In quanto Comunque Le scuole Si sono Attivate E attrezzate Anche per Consentire Immediatamente La didattica A distanza Qualora Fosse Necessario Quindi Al di là Del venir meno Un po' Di quelle Che erano Le progettualità Degli scorsi anni Perché ovviamente Esperti Esterni Non possono Entrare All'interno Delle scuole Per il resto Insomma Devo dire Che l'organizzazione È stata Diciamo Rispettose Insomma Di quelle Che sono Le esigenze Educative Dei bambini E se ne parla ormai Da diversi anni Ma il tema Del potenziamento Della tratta stradale Di collegamento Tra Pese e Rubino Resta sempre Di forte attualità Un progetto Che potrebbe Rivelarsi Un'occasione Importante Visti i fondi europei Che potrebbero Arrivare In futuro Ma io penso I tempi Di concorrenza Di percorrenza Vuol dire Nelle opportunità Di Pese e Urbino Capitale europea Della cultura Di avere Delle infrastrutture Adeguate Adeguate Ad un territorio Come il nostro Vuol dire Come è successo Per Matera Cambiare Il volto Di questo Territorio Di accrescere L'interesse Culturale Sociale Del mondo Delle imprese Per questo Territorio Vuol dire Creare Opportunità Di lavoro Di crescita Di sviluppo E di una Realtà Molto importante Perché Lungo questa Vallata Non è solo Pese e Urbino Passando per Vallefoglia Diciamo Capoluogo Di provincia Ma anche Una vallata Economicamente Molto importante Quindi avere Le idee I progetti Concorre Alle opportunità Che l'Europa Metterà a disposizione Io penso Che L'incontro Fra le istituzioni Le amministrazioni La regione La provincia I comuni Posso essere Un'opportunità Per interloquire Col Col governo E con L'Europa E avere Quest'opportunità Per il futuro Per i prossimi anni Per questa vallata La viabilità Ordinaria Tra Pesero Fano Fossombrono Urbino Vallefoglia Pesero Per la metropolitana Fuoriterra È chiaro Che Raddoppiare Diciamo La Viabilità Tra Pesero Urbino Per correre Magari Anche Con Una mobilità Pedonale Ciclabile Fiancheggiando Fiancheggiando La strada E magari Anche Una metropolitana Fuoriterra Leggera E non solo È affascinante Ma Consente Di avere Tanti investimenti E di dare In questo territorio Un territorio Che ha Una dimensione europea D'avanguardia E ora Concludiamo Parlando di Sport Nonostante La pausa In il campionato Dovuta Alla conclusione Della prima Parte Della stagione Continui Il lavoro Per la Megabox Vallefoglia In vista Della Polo E promozione Il nuovo Format Vedrà Alvia 10 squadre Ovvero Le prime 5 classificate Dei due Gironi Alle termine Della prima Fase Tra qualche Settimana Prenderà Il via Anche La Coppa Italia Di Serie 2 Per l'occasione La squadra Di Cozio Fabio Bonafede Dovrà Affrontare Nei quarti Di finale La quarta Classificata Dei Leggerone Ovest Mercoledì 3 marzo Alle pala Dionigi Di Montecchio E siamo Giunti Alla conclusione Di questo Nuovo appuntamento Con il Vallefoglia Magazine Io vi ringrazio Per essere stati Con noi Qua su Rossini TV Vi rinnovo L'appuntamento Venerdì Prossimo Le 19 Febbraio E vi auguro Una buona Serata Grazie a tutti A presto UZ Mi 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 Mi